Basha Ruarda, l'arcivescovo caldeo di Erbil, sta per visitare numerosi paesi del mondo per far sì che la voce dei cristiani perseguitati in Iraq venga udita da tutti. Dopo più di due anni di occupazione da parte di Daesh, le città della piana di Ninive sono state lentamente liberate. Tuttavia, i terroristi nel frattempo avevano distrutto quasi completamente molti centri abitati, le case e le chiese, sulle quali si sono accaniti in modo particolarmente duro. Nella località di Bashica, Daesh ha profanato le tombe dei patriarchi. Nei luoghi tanto emblematici quanto Quaracosh hanno convertito il chiostro della parrocchia dell'Immacolata in un campo da tiro. Questa chiesa, invece, è stata completamente imbruciata. Dopo più di due anni, le campane sono tornate a suonare solo un mese fa. Monsignor Ruarda ha assistito tutto ciò con i propri occhi. Per questo non può nascondere la sua profonda sofferenza. Allo stesso tempo, traspare dalla sua voce un forte messaggio di speranza. Quando si entra in queste chiese e si vede come tutto sia stato distrutto. Sì, avverto rabbia dentro di me, però dobbiamo superarla. Il messaggio è, dobbiamo tornare e ricominciare a vivere. Il vescovo, invitato a Roma da aiuto alla chiesa che soffre, chiede all'Europa di organizzare una sorta di piano marshal per l'Iraq, ovvero che i paesi smettano di prolungare la guerra sul territorio e si concentrano sulla ricostruzione e sulla pace. Noi vescovi abbiamo stabilito che la ricostruzione delle case sia un passo prioritario da compiere. Dobbiamo ridare le case alla gente, prima di qualunque chiesa. Quando i territori vengono liberati, aumenta il numero di persone che fuggono, come risultato dei combattimenti tra Daesh e l'esercito iracheno e kurdo. Per questo, Erbil ha vissuto una nuova ondata dei rifugiati che hanno ricevuto gli aiuti dei cristiani. Gli aiutiamo con otto convolli pieni di cibo e vestiti, perché sappiamo che stanno soffrendo, anche se sappiamo che alcuni di loro avevano saccheggiato le nostre case nella piana di Ninive. La maggior parte dei più dei 150.000 rifugiati che sono fuggiti da Ninive desiderano tornare ai loro paesi, ma hanno bisogno della certezza che questo incubo non si ripeta nuovamente. Grazie a tutti.